Claudia Mastro Berardino, posto schiacciatrice della nuova pallavolo Campobas, fino adesso qual è il tuo giudizio sul campionato sia di squadra sia a livello personale? Il campionato fino ad adesso è stato molto equilibrato, ci sono belle squadre che ci hanno messo in difficoltà, noi a nostra volta le abbiamo messe in difficoltà. È un campionato molto equilibrato, ci sono risultati anche strani a volte, però dobbiamo acquisire un po' di continuità in più e cercare di risalire la classifica che a mio parere non è troppo veritiera perché noi siamo davvero una bella squadra, ci sono belle individualità quindi potremmo fare ancora meglio. In prevalenza siete tutte ragazze giovani, quale messaggio puoi dare alle famiglie per spingere i loro figli a praticare questo sport che è un bello sport e come tutti gli sport da tanti benefici non solo fisici ma anche sociali, di relazione e quant'altro? Io personalmente posso parlare per la pallavolo però penso che lo sport sia importantissimo per i bambini, per i ragazzi, da disciplina, ti permette di imparare ad organizzarti meglio anche nella vita di tutti i giorni con la scuola. Io dico ai genitori che non è vero che lo sport sottrae tempo alla scuola, anzi penso che lo sport ti aiuti ancora meglio ad autogestirti, è una cosa molto importante che magari oggi manca un po' nei ragazzi.